Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo video dedicato alle Energy Drink. Oggi si ritorna con un'altra lattina della serie Recover ed eccola qui, la versione Raspberry a lampone che andremo subito a confrontare a livello di design con le sue versioni precedenti, i suoi predecessori e vedremo di fatto le differenze e poi andremo subito ad assaggiarla. Questo è lo storico delle nostre Rehub, dalla Rojo la più vecchia fino alla Recover, la più recente. Ebbene, partiamo proprio con la Rojo che come potete vedere ha un design aggressivo, accattivante, molto bello sfumato e questa è una delle prime Rehub in assoluto e l'abbiamo anche recensita. Poi abbiamo la versione intermedia, questa qua sempre Rosemary Tea, con un design un pelo più fine ma sempre che va a richiamare quello precedente, quindi sono state attenuate un po' le sfumature però di fatto siamo sempre lì. Invece la Recover ha cambiato totalmente faccia, cioè è stata resa molto minimizzata a livello di design, il fondo è fucsia, tutto fucsia, senza sfumature particolari, la scritta Monster del medesimo colore così come qua, Rosemary Tea, il riquadro. Quindi ragazzi questa Rehub è stata totalmente rinnovata e poi abbiamo scritto Recover. Devo essere sincero, preferisco le versioni precedenti, però anche questa qui è un bel pezzo da avere nella collezione, ovviamente la versione USA ragazzi con la linguetta ammolorata e che dire, davvero strepitosa, quindi abbiamo un trio evoluto al 100%. Eccola la nostra Recover, davvero strepitosa, stupenda. Eccoci qua, tè al lampone. Io me l'aspettavo di un colore tale quale al fondo della lattina, quindi pensavo fosse rosa, ma vabbè, anche color tè ci può anche stare. Vedremo poi le altre. giunto il momento di provare la Recover al lampone. Buona, buona come le versioni precedenti, sempre solo di lampone sa. Quindi il gusto è stato mantenuto, forse un pelo dolcificato, intensificato, ma sarà che è comunque una lattina nuova, nel senso è stata commercializzata da poco, a differenza di quelle più vecchie, è normale che abbia un sapore più intenso. Quindi di fatto c'è anche da aspettarsi ciò. Magari la lattina comunque cambia livello di design, ma il sapore è lo stesso. Viene, diciamo, intensificato dal fatto che è nuova. Quindi sì. Approvo. Approvo come voto finale di Don Belotto. Quindi sì, ci siamo. Rehab Recover approvata. Io concludo qui questo video. Mi raccomando, rimanete sintonizzati, perché a breve promuoveremo anche tutte le altre versioni che ci mancano. Quindi ragazzi, rimanete connessi, lasciate ora un like, perché le storie perendo praticamente tutte. Alcune sono in viaggio, alcune sono già arrivate. Quindi ragazzi, mi raccomando, noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao! Ciao!